non ridere bastardo allora siamo alla seconda villa muro seconda villa muro socio questo è un'altra villona sempre in zona qui entriamo di qua vedete entriamo di qua vedete che c'è sto staccando la marmita di quella macchina ma cos'è un albergo questo qua che bello qua ecco qua ad esempio ci farò molte più foto indubbiamente e oltre sono tutte le macchine qua e macchinari c'è macchinari le caldaglia qui c'è un po' rovorti nella macchina un po' rovorti è che vecchia c'è un po' rovorti c'è un po' rovorti c'è un po' rovorti Allora è bello. Guardate che meraviglia. Guardate che roba. Porta murata. Non si vede. Non si vede. Non si vede. Un cassone. Cos'hai te Pio? Ho guardato ma è tutto vuoto. Voglio vedere. Dobbiamo andare da sotto. Prima di entrare. Vieni anche tu? Sì sì ti posso vedere. Vai. Allora adesso stiamo andando nella Dependance. Non lo so. Lì c'è il muretto che dava sulla strada. Qui. E ci sarà. Da ridare. La patrice. Guarda. La patrice. La patrice. Patrice di una volta. Asti guarda qua. Un faretto. Peccato. Peccato. Conciuto così. Io faccio un piscino più bello. Ma non si. Sì. Sai che fai uno? Il piscino. Il piscino vai fuori eh. Eh? Vai fuori. Non sporcare. Perché poi sennò. Perché visto che c'è tutto in ordine. Faccio carevo eh. Sì. Molto bello. Guarda. Eh. Ti sarà scappata. È rimasta manuale fino adesso? Sì. Che sarò commosso a vedere i ciasi intorsi. Ho! Ho! Sono qua. Ho! Iscrivo il mio. Ho! 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 Voi? Voi? Voto. Voto. Si può andar su? Totalmente vuoto. Di su? Ci hanno tirato via tutti i marmi. Ma che roba? D'altronde è... Sì, quello sì. 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 Però... C'è più rischio io... ...buki ...e scarpi... Non posso dire niente Fatta finita Neanche lui Mi sono lamentato nell'ultimo video Perché? Trova sempre le vedette Lui trova sempre le vedette Però questa cantina mi piacerebbe andare a vedere Dai andiamo a vedere le cantine Probabilmente Probabilmente Si? No, non guarda Troviamo la Lo lì è il mega E' un po' strano questo posto Capacità Eppure secondo me le cantine ci sono Mi sembra troppo strano Mi sembra troppo strano che ci siano Dai scusa? Io guardo qua Allora stiamo cercando le cantine Che Si parla strano Non ci siano La spesa d'olive E' un po' strano Che c'è anche qua Non è proprio conciato benissimo Non è proprio conciato benissimo E' un po' strano Io si E' un po' strano 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 Il mese Sotto ci sarà anche altro quella lì vicino o quella lì in fondo? E' questo qua vicino? Non lo so di qua cosa c'è, non c'è di qua, si rimenta, deve sentire, anche qua poche foto Allora si conclude l'altra visita, Villa Muffa, questa non ancora Eh si c'era in alto però anche qui Sottotitoli Grazie a tutti